per ringraziare tutti quelli che hanno voluto partecipare a questo torneo che in sette anni di storia è il primo torneo di Montepremi che il Capitolium federale organizza, tra l'altro ringrazio la federazione che ha permesso questi piccoli tornei anche a noi che siamo piccoli soci, piccoli club di organizzare i tornei, quindi grazie a chi ha partecipato, grazie a voi e noi ringrazio enorme a Gianluca che spero abbiate apprezzato, e ovviamente il fiamma che ci ha ospitato con la solita professione, grazie al quarto posto la nazionale di Montepremi che vediamo Marcia Castani Siamo ovviamente contenti con la donna Con la paggetta la devi sentire E voi? Al terzo posto, da nei primi Oh! 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 Ciao a Coraschio Lillie del Jordan Grazie Lillie Caschio Senza più bianche Calteschio Secondo posto Giovane Stefano Piraccino Ho detto bene? Giovane Maestro Di scinto Perché giovanissime B terug Ma invece ho giovane veramente prima Bravissimo Certo che la Gavriola può atterraggio sul posto 1, c'era tutta.